Allora, per ristabilire un attimo di che cosa dovremmo parlare oggi qui in Aula, consiglio straordinario richiesto dalle opposizioni, stabilità politica dell'aggiunta capitolina alla luce di recenti fatti giudiziari riportati dalla stampa. In realtà io ho sentito attentamente gli altri interventi delle opposizioni e credo che soprattutto quelli del lato centrosinistra non è che siano andati poi nel verso di questo consiglio straordinario. Anzi, io ho sentito dire tante cose, sicuramente tutte criticabili, che fanno parte di questo giochetto, di questo gioco all'ipocrisia che fa spesso l'opposizione di centrosinistra, tirando in ballo situazioni e strumentalizzandole. Perdendo quindi di vista quello che effettivamente sta succedendo oggi a Roma Capitale, i cittadini, voglio ricordare, hanno votato il Movimento 5 Stelle proprio per un'area di cambiamento. E' chiaro che non vi sta bene, cari consiglieri del centro-sinistra e anche un po' cari consiglieri del centro-destra, perché qui c'è un passo diverso e questo, i cittadini, molti cittadini, chi l'ha capito già da tempo ci ha votato e molti lo stanno capendo. Io voglio ricordare che noi siamo cittadini che siamo entrati nelle istituzioni proprio perché consapevoli di quello che accadeva e consapevoli che qui, uniti, possiamo e porteremo sicuramente, già lo stiamo facendo, il cambiamento. Sento di strumentalizzazioni, e qui chiaramente come Presidente dei Lavori Pubblici mi sento chiamata in causa, ecco, non c'è il consigliere Corsetti, strumentalizzare i lavori della via salaria dove sono stati abbassati i limiti a 30, il limite è stato abbassato dalla Polizia Locale da 50 a 30 km orari. Ebbene, la via salaria sono lavori che sarebbero dovuti partire nel 2014, perché nel 2013 è stata fatta una gara, ma che è stata oggetto, e lo è uscita da poco, di un contenzioso amministrativo, due grati di giudizio che si sono risolti con una sentenza del Consiglio di Stato di pochi mesi fa, di pochi giorni fa. In questo momento, sollecitati proprio da noi, gli uffici stanno mettendo in pratica, stanno eseguendo, come si usa dire in legalese, la sentenza, e stanno studiando in che modo, perché non è stata una sentenza di facile lettura. Quindi, noi siamo sul pezzo, come ad esempio via Formia, ve lo voglio ricordare, e qui devo ringraziare l'assessore Mazzillo, che ha capito perfettamente la gravità della situazione di via Formia, dove insistono delle cavità, parliamo del Municipio Quinto, in cui da 60 anni, 60 anni, i cittadini aspettano che vengano fatte le fogne, la rete fognaria. Cittadini vessati ulteriormente da denunce che, lo ripeto, grazie alla Giunta, alla Sindagaraggia, all'assessore Mazzillo, sono state, come dire, eliminate in parte, denunce fatte contro gli stessi cittadini perché l'amministrazione di Roma non ha mai fatto la rete fognaria a questi cittadini. Tema, devo dirlo, portato da un consigliere, il consigliere Figliomeni, che mi dispiace che non è seduto sugli scranni in questo momento, portata dal consigliere alla Commissione Lavori Pubblici, ci siamo messi subito al lavoro con gli uffici, l'assessore Mazzillo, per reperire 1.850.000 euro. Ebbene, i cittadini avranno tra poco meno di 18 mesi la rete fognaria, per cui per 60 anni hanno dovuto lottare ed aspettare. Ringrazio i colleghi di questo applauso perché devo dire che, quando ho visto in bilancio questa voce, non nascondo che mi sono commossa perché, secondo me, è questo che dobbiamo fare per i cittadini. Noi siamo qui proprio prestati alle istituzioni per fare tutto ciò che fino a questo momento non è stato fatto e che non veniva corrisposto ai cittadini. Inoltre voglio anche ricordare le gare pubbliche che spesso sono oggetto di comunicati, gare fatte in modo trasparente, gare fatte per cui sono arrivate più di 200 offerte e questo vuol dire che si alza la qualità del confronto competitivo. mi sento ancora oggi dire, sempre lato centro-sinistra, una Roma piena di buche. Cosa state facendo? E grazie. Abbiamo trovato una Roma piena di buche per gare che ancora oggi sono sotto l'attenzione dell'autorità giudiziaria, che ancora oggi parla di arresti, che ancora oggi parla di indagati. Abbiamo trovato una Roma in ginocchio da un punto di vista della manutenzione stradale. E devo dire sempre grazie a questa giunta, grazie al bilancio, grazie all'assessore Mazzillo, ci sono ora i fondi per far ripartire. E' chiaro, non in tutte le strade, soprattutto della grande viabilità, ma stiamo chiaramente lavorando perché i soldi vengano spesi bene per strade per cui c'è pericolo per tutti, automobilisti, ciclisti, mezzi del pubblico trasporto, ciclisti. Stiamo tentando quindi, come diceva la nostra sindaca, di ripartire da una situazione disastrosa. Disastrosa come le scuole. Io devo dire che qui la nostra sindaca si è battuta per avere una voce nel bilancio, non so se tanti se ne sono accorti, è sempre il bilancio lavori pubblici, quindi Dipartimento Simu, per quanto riguarda la vulnerabilità delle scuole. Ebbene, io non ne avevo mai sentito parlare prima dagli altri governi, invece è stato un punto fermo della nostra sindaca Virginia Raggi. Quindi si parlerà di vulnerabilità degli edifici scolastici, si dovrà preparare, chiaramente se ne parla, dei progetti per quanto riguarda questa particolare materia di lavori pubblici che va proprio a toccare quella parte più delicata, perché nelle scuole ci sono i bambini. E' per quello che è successo con gli eventi sismici che hanno colpito fortemente Roma. Quindi noi non abbiamo ricette particolari, stiamo a lavorare qui insieme alla Giunta, i colleghi nelle commissioni dove sono ben accetti, tutti i suggerimenti da parte anche e soprattutto delle opposizioni. Io sinceramente vedo poco le opposizioni, alcune opposizioni, ho ricordato il consigliere Figlomeni che è ritornato in aula, che sta spesso con noi e ha dato ottimi input, la consigliera Mussolini. Ma di solito, tranne qualche accenno, vedo poco i consiglieri del centro-sinistra o anche della lista Marchini. Mi dispiace che non sia in aula il consigliere onorato, il quale, quando ha portato degli argomenti, sono stati affrontati. Sì, grazie Presidente. Quindi noi lavoriamo nelle commissioni con buona volontà, studio, dedizione, perché, ripeto, siamo cittadini prestati alle istituzioni, due mandati e via, e quindi vogliamo fare bene insieme, uniti alla Giunta e alla Sindaca Raggi. Grazie. Grazie.